La Rocca di Novellara, protagonista di un nuovo appuntamento di Più vita agli anni, seconda edizione, iniziativa di Auser Reggio Emilia. Siamo con la vicepresidente Vera Romiti e parliamo di questa giornata. Oggi siamo al quarto appuntamento del nostro percorso nella provincia di Reggio Emilia alla scoperta dei tesori e delle eccellenze paesaggistiche, culturali che abbiamo. Siamo qui alla Rocca di Novellara, chiamati dall'Auser di Novellara proprio per visitare questo bellissimo palazzo e conoscere la sua storia, le sue collezioni e le risorse di questo bellissimo paese. Ecco, è un'occasione per mettere in risalto che l'attività di volontariato Auser spazia su vari settori. Sicuramente. Oltre all'Uelfar per le persone non più giovani, che è il nostro filo conduttore principale, e svolgiamo anche un'attività culturale, che è molto importante, che i nostri volontari e soci apprezzano moltissimo. Tant'è vero che anche oggi abbiamo una grandissima partecipazione, come anche negli altri appuntamenti. Direttrice del Museo Gonzaga di Novellara, la dottoressa Elena Ghidini. Andremo a visitare insieme al gruppo dell'Auser le sale del Museo Gonzaga, che sono le sale più belle, più decorativamente importanti di tutto il castello. Questo appartamento è stato costruito nella metà del Cinquecento, su progetto di Lelio Orsi, e all'interno delle stanze dove è collocato il museo abbiamo dei freggi meravigliosi di allievi di Lelio Orsi, abbiamo delle opere d'arte molto importanti, custodiamo i famosi vasi della farmacia, della spezzeria dei Gesuiti di Novellara, che sono una delle raccolte più importanti che ci sono in Europa di vasi da farmacia. All'interno ci sono anche delle opere d'arte, come ad esempio l'annunciazione di Lelio Orsi, c'è un arazzo importantissimo acquistato dal Comune nel 2003, che era figura a Giosone Medea sul vascello degli Argonauti, e tante altre cose. Poi il percorso proseguirà, si visiteranno i sotterranei, la Sala del Fico, che è una sala grottesca, il piano terra della Rocca, ed è una sala che è stata ultimata con un contributo dell'Istituto Beni Culturali. Presidente Hauser di Novellara, Enzo Tondelli, qual è la collaborazione di Hauser alle attività culturali di questo paese? Noi abbiamo dei volontari che tengono aperto questo museo dove siamo adesso, vengono la domenica a aprire, perché tutte le domeniche sono aperte, ed essendo anche un museo a ingresso libero, ti aiuta a non far pagare il biglietto di ingresso. Abbiamo anche sotto la mostra delle attestature di città contadina. Inseriamo tutta questa attività in quella che invece è l'attività caratteristica di Hauser a Novellara. Siamo circa 140 iscritti, da 80-85 volontari attivi, che tutti i giorni sono impegnati nelle varie attività che facciamo. In totale sono 19 attività diverse che facciamo a Novellara. Riteniamo molto utile conoscere anche il paese dove viviamo, le cose che abbiamo qua vicino a noi, perché tante volte siamo abituati a prendere un aereo, una nave, andare lontano, lontano, quando invece abbiamo tante cose di valore, ecco, qua intorno a noi. Grazie.